Magico me, il mago sei tu. Hey ragazzi, avete mai visto un dado trasformista? È quello che sto per mostrarvi. Si tratta di un dado posato su un piattino nero. Mi basta collocare sul dado un altro piattino nero e contare fino a tre, così. Uno, due, tre. Beh, molto probabilmente qualcosa è accaduto. E infatti il dado è cambiato, ha cambiato le sue dimensioni, abbiamo compresso il nostro dado ed è diventato un piccolo dado. Eccolo. Questa è una magia di Magico me.